Derby pericolosi, potremmo titolare così la domenica delle 6 abruzzesi del Girone F, visto gli incroci, tre partite tutte da vedere. Al Vincenzo Savini la capolista notaresco ospiterà la vastese, match apertissimo. Da una parte la squadra di Vagnoni, raggiunta in vetta dal Matelica domenica scorsa, complice un periodo di netta flessione. La vittoria in casa Rosso Blu in assoluto manca dal 19 gennaio scorso sul campo amico, addirittura dal 15 dicembre. Come dire, voglia di riassaporare i tre punti. Dall'altra una vastese che vanta uno degli organici migliori del Girone e che attraversa un ottimo stato di forma, tre vittorie nelle ultime quattro giornate coincise con l'avvento in panchina di mister Massimo Silva. Tre biancorossi assente Pompei, per infortunio, in dubbio, la presenza di Pizzutelli. Nel notaresco due l'assenze pesanti, lo squalificato Cancelli e l'infortunato Sansovini. Un solo ex nella sfida, il centrocampista Stivaletta, vastese Doc, tornato in rosso-blu nella finestra di mercato di dicembre, proprio dalla società aragonese. Allo Stadio dei Marsi, un avezzano bisognoso di punti, in ottica salvezza, ospiterà un Pineto impegnato a centrare la zona play-off. In casa marsicana, il tecnico Liguori avrà tutti a disposizione. Movimenti in società con il presidente Paris, che ha presentato nei giorni scorsi Luigi Ridolfi come nuovo direttore tecnico della prima squadra, nonché responsabile del settore giovanile. In casa Pineto, Amaolo avrà diverse defezioni, a cominciare da Bianciardi, l'ex di turno appiedato dal giudice sportivo, assente anche l'infortunato della Quercia, da valutare le condizioni di speranza del portiere Amadio e dell'attaccante Tomassini. Infine, 90 minuti forse fondamentali per i destini di Chieti e Giulianova. Il match è in programma a Pineto, l'Angelini è ancora indisponibile, obbligo vittoria per entrambe. Per i Neroverdi, un solo punto in otto gare dall'inizio dell'anno e una delle ultime occasioni per abbandonare il penultimo posto e sperare nei play-out. Per i giallorossi, i tre punti sarebbero oro colato per continuare la scalata verso la salvezza diretta, ora a meno sei. In casa Neroverde, auto, brugaletta e milizia, infortunati, Traini è a mezzo servizio e partirà dalla panchina. Grandoni dovrebbe passare alla difesa a tre con l'innesto dal primo minuto del 2002 di Renzo. Tridente d'attacco, Sivilla, Sarrizzo e Franchi. Assenze anche nella Giulianova, l'infortunato Castiglia, il difensore Federico Di Paolo e gli squalificati Ramoco e Balducci. Partita speciale per il tecnico Federico Del Grosso, ex capitano Neroverde, che punterà sul 3-4-1-2 con la coppia Cesario e Francesco Di Paolo per provare a sfondare la retroguardia Neroverde.